ciao a tutti ciao sofia cosa facciamo oggi di bello e cosa hai preparato per noi come si dice biscotti in spagnolo galletas molto bene prego inizia pure mettiamo mettiamo lo zucchero dentro il burro certo tutto ok stiamo per fare i biscotti che ti piacciono tanto vero sofi per elika la tua amica perché tu quando vai a scuola e porti i tuoi biscottini fatti in casa tutti i tuoi amici vogliono assaggiarli perché sono buonissimo molto buono buttiamo dentro mettiamo dentro ok poi aggiungiamo un uomo giusto ma cosa devo fare mescolare mescolare si adesso cosa aggiungiamo il profumo di vaniglia è già buono vero tuttissimo questo è difficilissimo poi quando saranno pronti i biscotti la cosa più bella sarà decorarli e fare dei bei disegni eh sì facciamo un arcobaleno e dopo pure facciamo le facce e molte cose molte cose facciamo prima l'arcobaleno i play da piano 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 io direi che è arrivato il momento di aggiungere la farina eccola qua direi di sì direi di sì wow 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 forza facciamo una bella pallina sì mi sa che non arrivi in fondo questa ce lo mangia tutto facciamo una bella pallina e va a finire in frigo così mentre diventa mentre diventa un po dura noi facciamo la cosa che ci piace di più che cosa ci piace di più lo slime lo slime oggi lo facciamo da un altro colore un bellissimo colore arancione glitterato vero? sì quali sono i tuoi youtuber preferiti Sofia? alisa e me con te e anche loro fanno sempre gli slime vero? sì benissimo poi alisa no alisa no e nell'attesa che la pasta per i biscotti si raffreddi in frigorifero noi cosa facciamo? la cosa? lo slime challenge la cosa che ti piace di più lo slime challenge forza dai inizia tu inizia tu dai come si fa? facci vedere prima la colla oh che bella mmm mmm beh questo colore arancione è bellissimo vero? no mi piaceva più l'altro ti piaceva di più l'altro? e che colore era? viola? sì era viola era un fucsia forse no però eh sto mettendo così tutto che bella che bella eh 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 vediamo un po' bellissimo questo colore però eh a me piace tanto poi si vedono di più i glitter come vanno i lavori? bene adesso bisogna aggiungere la polverina magica vero Sofì? ma qual è la polverina magica? ma quante glitter! certo siamo pronti per mettere il bicarbonato? sì la polverina bianca magica? ah questa non te lo mangi però eh no non me lo mangio non me lo mangio tra l'altro me lo mangiavo tutto ma sembra neve è azzurra guardate un po' eeeh il colore è fantastico l'abbiamo già detto adesso forse bisogna aggiungere un liquido magico vero? sì per farlo diventare slime è vero ma questo non si chiama liquido magico? come non si chiama liquido magico? sì non fa una magia? ma ancora? anche questo si chiama liquido per lenti liquido per lenti ok aggiungiamone un bel po' vediamo se si forma lo slime vediamo 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 ho messo troppo secondo me si sta formando perché sta diventando già un po' slimeoso è vero è vero si sta formando si sta formando si sta formando si sta formando mmm che buono è troppo è troppo è troppo tutte le volte non ci riesce passeremo la storia per quelli che non riescono mai a fare lo slime guardateee alla fine ce l'abbiamo fatta non si può vedere il sito si allunga da matti eh un attimo io credo che è venuto bene io vorrei vedere una cosa guardate vi faccio vedere prima si fa così e dopo si mette qua e si fa e si sale una cacchina ah hai fatto una cacchina guardate una cacchina enorme che schifo eccoci tornati allora dopo aver pulito tutta la tavola perché era piena di slime e di glitter siamo tornati ai nostri biscotti buona Sofia si è già lanciata sta già stirando la pasta è proprio una pasticcera eh si è proprio una pasticcera papi un giorno possiamo fare le pasticcere e lasciamo qua alcuni biscotti li mettiamo in un posto e dopo andiamo fuori e vendiamo i biscotti ah va bene facciamo un bel negozio di biscotti e dopo ci danno le monete le monete si le mettiamo nel nel salvadanaio e dopo le mettiamo nel salvadanaio benissimo qua ci sono molti spazi vediamo come fai è troppo morbido no eh si un pochettino dai ma ce la facciamo lo stesso dai tira via tutta la parte in più cosa facciamo? come facciamo? è troppo morbida mmmm mmmm ancora te lo sei mangiato Sofia mangiona no come facciamo? no ma facciamo lo stesso ma facciamo lo stesso e non facciamo lo stesso brava ok e dopo tu Sofia sono pronti Vediamo un po' Sono fantastici Vediamo di non scottarci Siamo arrivati al momento di decorarli Abbiamo questi bellissimi tubettini colorati Che cosa stai facendo Sofì? Vado a fare un arcobaleno Un arcobaleno? Sofia ti sta venendo veramente bene Come vedete è l'ora della merenda E Sofia ha deciso di mangiarsene una Non ce la faceva più Com'è? Buonissimo Guardate che cosa abbiamo fatto Quanti bei biscotti C'è anche Peppa P Questo invece chi è? Un minion E qua vedo che hai fatto anche un arcobaleno Complimenti Bellissimo Una cucinella Qua invece vedo che c'è un regalino Una stella Un albero di Natale E qua c'è un Un cuoreccino Con le ali Un cuore allato E allora Sofia cosa diciamo ai nostri amici Dopo una bella giornata passata insieme? Ciao Salutiamo tutti gli amici Ciao 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 Ciao